Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Adesso vi faccio vedere un piccolissimo video, ma proprio 45 secondi, quindi non vi spaventate, cosa veloce, di alcune elaborazioni che ho fatto ultimamente con un nuovo tipo di materiale. Andiamolo a vedere. Grazie a tutti. Come avete visto ho fatto degli orecchini. Gli orecchini sono il mio primo amore e le mie prime elaborazioni di laser sono stati orecchini perché avevo un laser poco potente, è proprio il primissimo, aveva una superficie veramente piccola da poter lavorare, per cui era una delle poche elaborazioni che mi potevo permettere. Ho continuato a farli, mi piace farli eccetera eccetera, mi piace sperimentare nuovi disegni, nuove forme, come in questo caso, e con questi nuovi materiali ho fatto quello che avete visto, che a mio avviso è qualcosa di abbastanza nuovo per quanto riguarda gli orecchini oppure altre lavorazioni fatte al laser. Di quei materiali vi avevo già parlato in precedenti video. Vi metto qui sopra le schede per poterli raggiungere e andare a vedere se ve li siete persi. Qui vi rinnovo anche l'invito a iscrivervi al canale e il like, magari me lo mettete in fondo se vi è piaciuto, ma mettetemelo lo stesso a prescindere sulla fiducia, come si dice. Dicevo, li avevo già provati eccetera eccetera e avevo fatto alcune cose, tra cui anche un un ciondolo, nel video che vi metto qua sopra adesso, di un gattino che però siccome una volta i materiali, i primi materiali fatti specchiati di Grid Carve, questa è la ditta che produce questi materiali, erano specchiati solamente sul lato, ve lo faccio vedere su questo piccolo video del materiale, vedete c'è la parte specchiata, la parte retro invece è nera. I nuovi invece sono specchiati fronte e retro in tre colori, oro, oro rosso e argento. Allora, della lavorazione che ho fatto per eseguire questi orecchini ve ne parlerò alla fine del video, perché vi voglio dire tutto per bene e dirvi anche qualche trucchetto. Allora, vediamo un pochettino come sono questi materiali. Vi faccio vedere la prima prova che avevo fatto, era questa, che era un ciondolo, praticamente con quel fiore lì, inciso, che è il fiore del mese di nascita, che è una tradizione non tanto italiana, ma praticamente su qualche gioiello si va a mettere il fiore di riferimento del mese in cui è nata la persona che porterà l'oggetto. E quindi sono dodici fiori diversi, avevo scelto questo, in questo caso qua, e avevo provato a fare questo, questo ciondolo. Francamente vi devo dire che è riuscito bene, però mi sarebbe piaciuto farci qualcosa di diverso. visto che quel ciondolo mi sembrava un po' piatto, un po', diciamo, un po' troppo, sì, piatto, detto la parola giusta prima, ho pensato di fare qualche curvatura, di fare, di incurvare un pochettino il, diciamo, il materiale. Materiale plastico, per cui materiale plastico ci vuole il calore. Ho utilizzato una pistola termica ad aria, per, si può usare che un phon, anzi, diciamo che va benissimo anche un phon se non avete una pistola, diciamo, per l'aria calda. E ho provato a dargli un po' di calore, perché ho intenzione di curvarli manualmente. Ho notato però, con sorpresa, che questo materiale tende ad incurvarsi in maniera autonoma, basta andare a dirigere il getto dell'aria calda, diciamo, al centro della figura tagliata. Vi faccio vedere questo, che è, diciamo, quello che ho fatto subito dopo il quel ciondolo che vi ho fatto vedere prima. Vedete che è incurvato. Questo è bastato dare solamente un po' d'aria calda su questa superficie, che si è incurvato magicamente. E non solo si è incurvato, ha anche, diciamo, fatto un effetto di satinatura sulla superficie, sia sul davanti che sul di dietro. Ok? Questo è quello che mi ha fatto scoprire questo nuovo sistema di utilizzo di questo materiale. Da lì è partita la sperimentazione, quindi praticamente ho provato altre cose. Vedete questa, questa forma un po' bizzarra, ma che... ve lo fermo. Eccolo qua. Vedete, anche qua, è incurvato con lo stesso sistema di prima e anche l'oro, ecco, era balla un po' po', e anche l'oro riflette abbastanza bene satinato e quindi che ha un aspetto decisamente diverso dal materiale, diciamo, originale. Poi vi faccio vedere questo. Questo è incurvato in un altro modo, perché questo è incurvato in senso longitudinale, cioè quindi praticamente l'ha fatto in questo modo. L'effetto che vedete è dato, e che avete visto magari nel video, è dato da incisione più taglio e con l'incisione andando a giocare nei livelli anche con l'intervallo di linea, per non avere proprio il nero nero, ma avere qualche schizzetto un pochino bianco che rimane. Vedete anche il retro è satinato, che riflette bene, e diciamo questo qua è stato, diciamo, tagliato in senso diverso rispetto agli altri due, perché l'ho tagliato in senso longitudinale per poter avere questo tipo di curvatura. Allora, vi avevo detto che vi dicevo qualche trucchetto. Il trucchetto è di dare poco calore alla volta, quindi non dar subito un calore molto importante, perché altrimenti, oltre a incurvarsi troppo, si sgretola anche troppo, diciamo, la vernice specchiata, quindi col rischio che si stacchi anche, quindi se noi andiamo ad insistere troppo, sì, forse riusciremo ad avere una curvatura più accentuata, forse riusciremo ad avere un effetto diverso, però rischiamo di andare a rovinare quella verniciatura a specchio che è stata data sui materiali, quindi vi consiglio di non insistere troppo. Il consiglio anche che vi do è quello di tenere la fonte di calore non proprio addosso, ma tenere la leggermente sollevata appunto per dargli una gradualità al colore in modo che non vada a rovinare subito il materiale. La terza cosa che ci tengo a dirvi è che se volete ancora di più essere sicuri della durata del materiale, è sempre bene dargli una piccola spruzzata di acrilico trasparente lucido. Ho notato, io l'ho provato con due acrilici che avevo, trasparenti lucidi, di due marche diverse, perché ho voluto vedere un attimino, perché già con quello di una marca non mi ero trovato bene, era anche un pochino più economico, per l'amor di Dio, e non mi aveva dato degli ottimi risultati sulle legno quello. Ho provato quello, poi ho provato quello che ho preso successivamente di una marca migliore, pagandolo un pochettino di più, e come spesso avviene nelle cose, quando uno paga un pochino di più la qualità è sicuramente migliore, è venuto decisamente meglio. Quindi attenzione a insistere troppo con il calore, proteggetelo poi con un pochettino di trasparente, acrilico, e la durata dovrebbe essere, io l'ho fatta in questi giorni per cui non so quanto dureranno, però ho provato anche Astrofinale con una spugnetta verde di quelli che si lavano i piatti, quindi che è abbastanza rubida, e dopo il trattamento con l'acrilico non c'è, non ci sono stati segni di usura. Allora, non serviva a farla molto lunga, quindi ho cercato di ridurre i tempi in modo da non annoiarvi ulteriormente. Se il video vi è piaciuto, per prima cosa iscrivetevi al canale, poi mettete anche like, fa piacere, anzi mettete di like, sto scherzando, ma iscrivetevi al canale. Abbiamo superato i 4.000 iscritti, siamo quasi a 4.100, e sono contento, perché anche non troppo, perché forse potremmo essere di più, perché sicuramente il 50% di chi guarda i miei video è iscritto al canale, quindi quel 50% si iscriva, ok? Vi saluto tutti, vi do l'appuntamento al prossimo video, e ciao!